The Football Story 2030 presenta un mito del calcio, Armando Picchi, nato a Livorno il 20 giugno 1935 e scomparso a Sanremo il 26 maggio 1971, è stato un calciatore italiano di ruolo difensore e allenatore di calcio. Armando Picchi iniziò la sua carriera come attaccante, ma durante i suoi anni a Livorno, l'allenatore Mario Magnozzi lo spostò in difesa. Qui si affermò come terzino destro, caratterizzandosi per la grinta, la rapidità e la propensione al gioco d'attacco. Il suo ingresso all'Inter, allenata da Elenio Herrera segnò la sua trasformazione graduale in libero, diventando il leader della retroguardia. Questo cambio di ruolo comportò una maggiore focalizzazione sulla difesa, come sottolineato da Mario Gerarducci, Armando fornisce un'interpretazione esemplare ma discussa del ruolo di libero. È lui l'ultima barriera davanti al portiere, è lui che non sguarnisce mai la difesa, è lui che calamita ogni pallone anche senza essere un fenomeno nel gioco aereo. Tuttavia, questa tendenza difensivista limitò le sue convocazioni in nazionale, poiché il commissario tecnico Edmondo Fabri lo considerava eccessivamente orientato alla difesa. Picchi era noto anche per la sua grande personalità e la capacità di leggere la partita, che lo facevano apparire come una sorta di allenatore in campo. Picchi iniziò la sua carriera nel Livorno nella stagione 1954-1955, giocando inizialmente come mezzala e successivamente trasferito nel ruolo di terzino. Dopo cinque stagioni in Toscana, durante le quali disputò 105 partite con cinque gol, nel 1959 fu ingaggiato dalla Spal in Serie A, ottenendo il quinto posto in campionato con la squadra biancazzurra. Al termine dell'annata, l'Inter lo acquistò per la somma di 24 milioni, oltre alla cessione definitiva di Oscar Massey, Enzo Matteucci e Ambrogio Valadè. Nella squadra nerazzurra iniziò a giocare da terzino destro, ruolo che già aveva ricoperto a Livorno e Ferrara. Conclusa la stagione 1961-1962, Elenio Herrera lo spostò al centro come libero, ruolo del quale in breve tempo divenne uno dei massimi interpreti. Dopo la partenza di Bruno Bolchi nel 1964 divenne il capitano della squadra. Con la grande Inter vinse tre scudetti, due coppe dei campioni e due coppe intercontinentali. Dopo aver giocato in nerazzurro 257 partite complessive con due gol segnati, al termine della stagione 1966-1967 venne ceduto Alvarese. Da qualche tempo, Picchi era ormai entrato in rotta con Herrera per via della ferrea disciplina pretesa da quest'ultimo, arrivato alla soglia dei 32 anni. Nell'estate del 1967 il presidente nerazzurro Angelo Moratti cedette all'ultimatum del tecnico argentino, o via lui o via io, congedando il capitano nerazzurro, che non deve qualcosa al mago, quanto deve il mago a noi giocatori? Molto, forse moltissimo. Con il club Varesino disputò due annate in massima serie, nell'ultima delle quali si cimentò nel doppio ruolo di giocatore allenatore, prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo nel 1969. A livello internazionale, esordì con la nazionale italiana Genova il 4 novembre 1964, in Italia-Finlandia 6 a 1, subito dopo essere diventato campione del mondo di club con l'Inter. Sotto la gestione Edmondo Fabri non ebbe grande spazio, tanto che non venne convocato per il campionato del mondo 1966 in Inghilterra. Sotto la successiva gestione di Ferruccio Valcareggi, coadiuvato da Elenio Herrera, venne chiamato per tutte le partite delle qualificazioni al campionato d'Europa 1968, il 6 aprile dello stesso anno, durante Italia-Bulgaria, subì la frattura del bacino e fu quindi impossibilitato a partecipare alla fase finale della manifestazione continentale, che vide gli azzurri vittoriosi. Il grave infortunio, a posteriori, pose fine alla sua carriera in nazionale, quello rimase infatti l'ultimo incontro con la maglia azzurra, dopo aver collezionato 12 presenze. Cominciò da allenatore giocatore nel Varese nella stagione 1968-1969, quando per un solo punto la squadra bianco-rossa mancò la salvezza in massima serie. L'anno successivo, ritiratosi definitivamente dall'attività agonistica, subentrò Adaldo Puccinelli alla guida del Livorno, in serie B, prese la squadra della sua città in piena zona retrocessione, portandola a risalire la china fino al nono posto finale. Fin da queste prime esperienze, Picchi mostrò delle sapienti qualità in panchina, che fecero presagire una carriera di pari livello a quella da calciatore. Dopo aver lasciato il Livorno, Picchi fu chiamato alla Juventus per guidare una squadra giovane e rinnovata. Nella stagione 1970-1971, a 35 anni, divenne il più giovane allenatore della Serie A. Tuttavia, i primi sintomi della malattia che lo porterà alla morte prematura lo costrinsero a lasciare la guida della Juventus nei primi mesi del 1971, sostituito da Estmir Vigpalek. La giovane Juventus da lui allenata chiuse il torneo al quarto posto e raggiunse la finale di Coppa delle Fiere, persa contro il Leeds United. Purtroppo, Picchi ispirò il giorno prima della sfida d'andata della finale e non poté assistere alla partita. A livello individuale, è considerato uno dei migliori liberi nella storia del calcio italiano. Nel 2022 è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano, grazie per aver scelto il nostro canale, se il video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti, mettere un like e lasciare un commento. La vostra partecipazione è la nostra fonte di energia, grazie.